Buonasera, siamo alla quarta puntata. Stasera si va un po' in salita. Preparatevi a quello che gli americani chiamano un brainstorming, una tempesta del cervello. Leggeremo un testo freudiano che ci introdurrà alcuni problemi relativi alla logica del delirio. È un testo a cui ho accennato alla fine della lezione di ieri e sul quale ho dato già una prima introduzione. Ora però è venuto il momento di vederlo analiticamente. Questo testo è tratto da quel commento che Freud ha fatto al volume di Wilhelm Jensen, un romanzo intitolato Gradiva e di cui appunto vi facevo cenno anche ieri. La storia dell'archeologo tedesco che ha un'allucinazione e poi un delirio e vede questa fanciulla morta con l'eruzione del Vesuvio nel 79 d.C., la vede viva attraversare le strade di Pompei. Ora nel Delirio e sogni nella Gradiva di Jensen Freud presenta un testo che ha una grande densità teorica e che ora lentamente vi leggo. Quando l'ammalato crede così tenacemente al proprio delirio, ciò non avviene per un sovvertimento delle sue capacità di ragionare e non deriva da ciò che di errato vi è nel delirio stesso. In ogni delirio vi è invece un nucleo di verità. Vi è sempre in esso qualcosa che merita fede veramente. Ed è questo qualcosa la fonte della persuasione del malato, la quale fin qui è giustificata. Ma questa verità è stata per lungo tempo rimossa. E quando finalmente le riesce di giungere alla coscienza in forma travisata, il sentimento di certezza che vi è connesso risulta per compenso rafforzato. Esso aderisce ora al surrogato della verità rimossa e lo protegge da ogni attacco critico. È come se la certezza si spostasse dalla verità inconscia all'errore cosciente che vi è collegato e vi rimanesse fissata proprio in forza di questo spostamento. Ecco, diamo una prima interpretazione letterale di questo brano e poi lo vedremo spezzettato per temi in cui si sottolineeranno gli aspetti principali. Allora, c'è intanto questa convinzione incrollabile del delirante che crede ai contenuti del suo delirio. C'è l'impossibilità di fargli cambiare idea attraverso una discussione, una dimostrazione o una prova empirica di realtà. Allora, la tenacia di questa convinzione, dice Freud, non deriva da un sovvertimento delle sue capacità di ragionare, non deriva da l'errore che è contenuto nel ragionamento. E qua il primo grande paradosso di Freud. La convinzione del delirio non deriva dalla quella che a noi appare la sua falsità, ma deriva paradossalmente dalla sua verità, cioè dal nucleo di verità che è contenuto nel delirio e sul quale il delirante si appoggia, ed è questo nucleo che fa sì che si aderisca al delirio stesso. Rileggo la seconda frase di questo testo. In ogni delirio vi è invece un nucleo di verità. Vi è sempre in esso qualcosa che merita fede veramente, ed è questo qualcosa la fonte della persuasione del malato, la quale fin qui è giustificata. Dunque noi non possiamo, questa è un'indicazione di metodo, considerare il delirio come un macro errore, come un cumulo di falsità, alla base del delirio, come momento generatore su cui il delirio nel delirante si appoggia, c'è qualche cosa di vero, che Freud, lo spiegheremo dopo, chiama la verità storica del delirio. Guardate, non verità logica, verità storica. Verità storica significa che c'è un episodio nel delirio che fa sì che, ad esempio, io abbia paura di aver compiuto qualche cosa di vergognoso e quindi che gli altri vengano a sapere quell'elemento vergognoso a cui io attribuisco tanta importanza. Di modo che finisco per avere quello che si chiama un delirio di attenzione, cioè elaboro una serie di ragionamenti più o meno contorti, in cui si dice che tutti mi vedono come se fossi trasparente, mi leggono dentro, tutti conoscono la mia vergogna. Allora, il nucleo di verità storica è questo mio sentimento di colpa, questo mio sentimento di autoaccusa e di vergogna. Il delirio cosa fa? Qua vediamo un altro modello, come dire, della famiglia dei nascondimenti del delirio. Nel delirio di gelosia, di cui abbiamo discusso anche troppo, c'è questa inversione per cui io non dico desidero mio genero, ma dico è mio marito che mi tradisce con una ragazza più giovane. C'è un capovolgimento di tipo speculare e una proiezione verso l'esterno. In quest'altro modello che vi sto proponendo e che Freud elabora fin dal 1895 nella cosiddetta minuta K, che sono degli appunti che lui prendeva, c'è invece l'idea che nella catena deduttiva del ragionamento io salto il primo anello, cioè io nascondo il fatto che c'è qualche cosa di vergognoso, in me lo dimentico, lo cielo e mi restano i punti due e tre, gli anelli successivi. Tutti sono capaci di leggere dentro di me, tutti guardano verso di me, per questo si dice delirio di attenzione, tutti sono in grado di accusarmi. Delirio di attenzione è come fase anche transitori a un delirio di persecuzione. Quindi la verità storica è non che qualcosa sia accaduto come dato di fatto, cioè per esempio il trauma può non avere nessun elemento esterno, cioè gli altri possono non accorgersi del fatto che io ho subito un trauma. Può essere, possono essere in genere, sono dei conflitti tutti interiori, quindi sono conflitti che non hanno manifestazioni visibili all'esterno, in genere. L'autoaccusa, la vergogna, possono esistere, così come possono esistere, dei traumi effettivi, cioè degli eventi visibili a tutti in cui io risulto umiliato, torturato, trattato come si diceva negli anni 50 con crudeltà mentale da qualche altro. Però ecco non è necessario che l'evento esterno sia come si dice reale. Perché vi sia delirio è sufficiente che vi sia conflitto e questo conflitto può nascere dall'interno o dall'esterno. Può nascere da un vissuto di inadeguatezza. Per esempio uno comincia a delirare perché non si sente all'altezza della situazione. E degli eventi, come dire, secondari gli fanno credere che magari, non so, è un pessimo marito, una pessima moglie, un pessimo genitore, un pessimo maestro, un pessimo avvocato, insomma quello che è. Questo sentimento di inadeguatezza può crescere e lievitare nel tempo finché qualche episodio soggettivamente traumatico fa crollare tutto e il delirio comincia. Quindi esiste sostanzialmente una verità storica che vuol dire che è vero per me. Cioè che questo conflitto io effettivamente l'ho vissuto. Ecco allora il conflitto nasce, il nucleo vero del conflitto per cui io ci credo, riprendendo l'esempio di prima, è la mia autoaccusa, la mia vergogna. Il fatto che se, mi viene da pensare, se qualcuno lo sapesse, io sprofonderei, come si dice in termini popolari, sottoterra. Ah, per non sprofondare sottoterra o per, in un certo modo, salvare me stesso da un conflitto devastante, io seguo la strada del nascondimento. Il nascondimento che può essere un saltare il primo anello della catena associativa, che può essere invertire i ruoli, che può essere comunque sempre una strategia di fuga. Una strategia di fuga che però lascia sempre delle tracce che permettono il ritorno. Cioè per chi è in grado di capire il delirio terapeuticamente si può intendere da queste operazioni di rovesciamento, di capovolgimento, di saltare un anello della catena, quali sono i meccanismi, i generatori del delirio stesso. Quindi noi abbiamo fede non in un nucleo di verità logica, cioè non c'è all'inizio una verità. Chi è che ha una penna da prestarmi, per favore, provvisoriamente? No, ma non gliela voglio togliere. Come prende appunti poi? Ah, ecco, poi gliela do. Non mi appunto alcune cose e vi voglio dire in seguito, se mi passano in mente. Quindi il nucleo di verità è storico, cioè storico vuol dire che è accaduto, che non me lo sono inventato il senso di autoaccusa o di inadeguatezza, anche se i risultati di questo senso, anche se il senso di autoaccusa è falso, cioè io non mi merito di accusarmi, oppure il senso di disistima è completamente inventato. L'importante è che io lo sento. Ecco, questo è il nucleo di verità storica il quale permette al delirante di credere sostanzialmente al suo delirio. Quindi il delirio non è un cumulo di falsità, ma contiene al suo interno questo nucleo vero. Ed è questo nucleo vero che ha la funzione di persuadere. E quindi la credenza, la fede in qualcosa, dice Freud, fin qui è giustificata. Cioè se io mi fermassi a questo nucleo di verità e a dire io sono un indegno, un disgraziato, un fetentone, tutto quello che volete, e mi autoaccusassi e mi fermassi qui, cioè non cominciassi a dire non sono io il fetentone quell'altro, non sono io che sto delirando, è che gli altri mi leggono nel pensiero. Se io mi fermassi prima, non succederebbe niente, sarei giustificato. Però cosa capita? Ma questa verità, questa verità storica, è stata per lungo tempo rimossa. Lungo tempo, cioè i deliri non nascono mai immediatamente dopo il trauma. Non è come se vi danno una bastonata in testa e voi cominciate subito a delirare. Questa botta, questa ferita, questo trauma, ci vuole un po' di tempo per elaborarlo. E quindi cosa facciamo noi? Noi la prima cosa che possiamo fare subito, inconsciamente, è di rimuovere questo nucleo di verità che è troppo prepotente. Cioè, prendiamo l'esempio di prima. Se la mia autoaccusa è di carattere, come dire, tollerabile, ho fatto una scemenza, mi sono comportato male, sono stato inadeguato in questa situazione, ma poi dice chi se ne frega, domani sarò adeguato, in un'altra situazione andrà meglio, non succede niente. Se invece questa autoaccusa ha un'intensità che per me è intollerabile, non potendo la coscienza ammettere questo peso, rimuove il contenuto. E questa rimozione, poi questo va del retro, implica il dispendio, l'erogazione di una quantità di energia che dura molto tempo. ma il rimosso, per Freud, ha una caratteristica, ha quella che vorrei chiamare la potenza ascensionale. Pensate all'esempio della molla che abbiamo fatto tante volte. Io comprimo la molla e questa è la rimozione. Mantengo lontano un contenuto terrificante che non deve giungere la coscienza. Però la molla ha anche un potere espansivo. Cioè, se voi la lasciate andare, si allunga. Il rimosso, quindi, è anch'esso un parallelogramma di forze. C'è la forza che comprime, diciamo, la censura che manda indietro. E c'è il contenuto rimosso che, invece, vuole manifestarsi. Quindi, è l'annullamento provvisorio di due forze contrastanti. Quando, per qualche motivo, la mia pressione sulla molla, sul rimosso, si allenta, il rimosso ritorna, riviene a galla. E questo rivenire a galla implica che non può rivenire a galla nella forma chiara. Cioè, la verità storica non può manifestarsi in maniera papale-papale, come si dice. Si può manifestare, sì, ma attraverso un compromesso. Cioè, in forma travisata, dice Freud. Si può manifestare in forma mascherata. Perciò, il delirio ha già questa prima caratteristica. È un grande luogo in cui il conflitto primario, cioè quello tra il riconoscere il nucleo di verità e il non riconoscerlo, si sposta su un terreno in cui i contendenti sono depotenziati. Cioè, non c'è... Il delirio, come dire, è un surrogato, un sostituto di conflitto in cui le stesse cose che provocano il conflitto si manifestano in maniera non solo mascherata, ma con una forma di conflitto attenuata. Cioè, come un torneo cavaleresco in cui non ci si infilza con delle lance vere, ma con degli spuntoni, al massimo si cade da cavallo. Quindi è meglio il delirio del conflitto. Nel delirio il conflitto si manifesta, si può manifestare a patto e a prezzo che i contendenti appaiano camuffati. Questo lo trovate detto nella proposizione che avete sentito e che ora vi rileggo. Ma questa verità storica è stata per lungo tempo rimossa e quando finalmente, cioè non subito, le riesce a giungere alla coscienza in forma travisata, quindi giunge alla coscienza in forma travisata, e ora c'è un altro pezzo importante, capitale, anzi per la comprensione del delirio in Freud, il sentimento di certezza che vi è connesso risulta per compenso rafforzato. Cioè, il paradosso a cui accennavo ieri è che quando questo nucleo di verità riesce a manifestarsi, ma a manifestarsi soltanto in forma camuffata, la certezza di questo camuffamento cresce in misura inversa alla verità. Cioè, più mi allontano dalla verità, che sono io per esempio, la verità storica che mi sento inadeguato o che mi vergogno tremendamente di qualcosa, questa è la verità storica. Nel delirio questa verità storica viene nascosta e io comincio a inventarmi un sacco di cose che la gente mi vede, mi legge nel pensiero, mi persegue, tutto quello che volete, che se sono la signora gelosa è mio marito che amo una fanciulla più giovane. Quindi, la verità che un'altra si presenta in forma travisata, rendendo meno drammatico il conflitto, ma questo presentarsi in modo travisato fa sì che paradossalmente, più ci si allontana dalla verità, cioè più il delirio, come dire, come la valanga di cui abbiamo detto, che c'è un nucleo che poi si gonfia di neve, pietrisco man mano che scende, più ci si allontana dalla verità, più cresce la certezza. Questo è il grande paradosso. Io più sono vicino alla certezza all'inizio del delirio, prima che il delirio si scateni, più ho dei dubbi. Più costruisco il delirio, più ho bisogno di certezza. Questo si capisce, perché se voi dovete creare un mondo nuovo, questo mondo nuovo è fragile, è una specie di guscio protettivo. Quindi voi non potete pensare che questo guscio non reggerebbe, diciamo, la prova logica, la prova di realtà. Allora, voi avete bisogno di credere nella potenza di questo guscio. E quindi più è fragile la protezione che date a quella cosa terribile che non volete sapere, più è fragile, più siete obbligati quasi compulsivamente a ritenerla certissima. Quindi quel nucleo di verità è il punto di partenza, di verità storica. Cioè voi avete avuto effettivamente un trauma, un dramma interiore, un conflitto. Questa è la verità storica. Però siccome questo conflitto, ve lo sto dicendo un po' in tutte le salse, perché è difficile prendere questa specie di bestia che è il delirio, più questa verità storica è intollerabile, più è simile alla famosa gorgone di cui abbiamo parlato ieri, più io devo nascondere a me stesso, mediante il delirio, questo trauma stesso. Allora, io, man mano che delirio, cioè man mano che il delirio diventa a lungo, si accumula, no? Come la valanga, la verità del delirio diminuisce. Perché io dico un sacco di falsità, cioè dico gli altri, è pazzo dire che gli altri vedono nella mia mente e sanno i miei più riposti pensieri. Se voi non glielo dite nessuno sa cosa pensate. E poi, andando ai delirio di persecuzione, è folle dire che se io l'avvocato Marotta sta là dietro con un apparecchio che manda raggi elettrici contro di me o contro di voi per farvi vedere che se io quale pensiero ho in testa. Quindi questo è falso, è falso. Però il malato più è falso e più ci crede. Questo è il problema. Più è falso e più sono certo. Dunque, esiste una sorta di legge newtoniana. Vi ricordate la legge di Newton sull'attrazione dei pianeti in funzione inversa a distanza, eccetera? Più io mi allontano dal nucleo di verità, cioè più diminuisce la verità, più aumenta la certezza. E più aumenta la certezza, per converso, più diminuisce la verità. Perché questo? Andiamo sempre in interpretazione letterale. Ma questa verità, le leggo, è stata per lungo tempo rimossa. E quando finalmente le riesce di giungere alla coscienza, in forma travisata, il sentimento di certezza, guardate, è un sentimento di certezza, non è una certezza di tipo razionale. Il sentimento di certezza che vi è connesso, cioè connesso alla forma travisata, non connesso alla verità, connesso alla metamorfosi della verità storica, il sentimento di certezza che vi è connesso risulta per compenso rafforzato. Il compenso vuol dire che è una specie di contrapeso. Per poter bilanciare la forza di questa verità storica che non voglio sapere, che per me è terribile sapere, io questo peso è come se avessi un contrapeso, come le bilance a due piatti. Io metto tanta falsità su un piatto per controbilanciare quella verità che io non voglio sapere. Quindi c'è un rafforzamento della certezza a detrimento della verità. E continuiamo l'ultimo pezzettino del testo. Esso, il sentimento di certezza, aderisce ora al surrogato della verità rimossa e lo protegge da ogni attacco critico. È come se la certezza si spostasse dalla verità inconscia all'errore cosciente che vi è collegato e vi rimanesse fissata proprio in forza di questo spostamento. Anche qua bisognerebbe fare un'analisi parola per parola. Ora, questo sentimento di certezza che abbiamo detto aumenta man mano che ci si allontana dalla verità storica iniziale, aderisce al surrogato della verità rimossa. Guardate, al surrogato. Insomma, io ho la certezza, la verità storica iniziale. Cioè, mettiamo che appunto ho un senso di colpa terribile. Questa è la verità storica. Man mano che il senso di colpa terribile mio io lo nascondo e do la colpa ad altri o quello che volete, questa verità storica viene surrogata, cioè viene sostituita, è come la cicoria rispetto al caffè con i tempi di guerra, viene sostituita dal, da questo, il delirio è una sostituzione della verità storica. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che il sentimento di certezza aderisce, cioè si appiccica al surrogato della verità che è stata rimossa e forma una specie di schermo repellente, come si dice per esempio per gli impermeabili rispetto all'acqua. Cioè la certezza rende impermeabile, inattaccabile il nucleo vero del delirio. Cioè mette fuori gioco la critica. Cioè ogni attacco critico, l'attacco critico è messo fuori gioco. E dice Freud, fa un paragone, è come se, non dice che è così, è come se, alzhop, c'è una filosofia come qualche filosofo ricorderà del come se, di Feinger, a cui Freud ha per qualche tempo guardato, è come se, la certezza si spostasse dalla verità inconscia all'errore cosciente. La verità storica, come ricorderete, era quella, inizialmente, che faceva sì che il malatto credesse nel suo delirio. Era il nucleo di verità del delirio. Soltanto che nel progredire del delirio, questa convinzione, che in ultima istanza fa credere al malatto ai contenuti del delirio, si sposta, scivola, scorre, dal nucleo di verità inconscia, cioè quella che non voglio sapere, sono un disgraziato, ho commesso cose inenarrabili, eccetera, si sposta all'errore cosciente. Cioè, la certezza, per quello il delirio diventa impermeabile, incomprensibile, perché io non attacco la verità inconscia, cioè il mio sentimento di colpa, di inadeguatezza, eccetera, la certezza si sposta sull'errore cosciente che vi è collegato, e che rimane fissato all'errore cosciente proprio in forza di questo spostamento. Quindi abbiamo, come vedete, tre modelli che abbiamo visto finora. Uno è quello del rovesciamento, della signora Gelosa. Non sono io che amo mio genero, è mio marito che si è messo con una donna giovane. Abbiamo il modello della minuta K del 1895, che dicevo prima, quello del saltare un anello della catena associativa. Cioè, tutte forme di nascondimento. Qua, invece, nel Delirio e sogni, nella gradiva di Jensen, noi abbiamo un nascondimento tramite slittamento o spostamento. cioè io non non necessariamente ho bisogno di capovolgere, non necessariamente ho bisogno di saltare degli aspetti, come dire, immediati. Io posso, senza capovolgere niente, nascondere facendo slittare la certezza. Cioè, la certezza passa dalla verità alla falsità. È come uno spostamento, se volete, di peso nella bilancia, visto si parla di bilancia, nella romana, no? quella bilancia così. Voi spostate il peso della certezza sempre più dalla parte del falso. Ecco, abbiamo visto una prima lettura di carattere letterale. Ora, vi sottopongo a una sorta di attenuato shock rileggendovi il testo per vedere la differenza tra quando l'avete sentito prima non si capiva niente e il primo strato invece interpretativo che credo vi aiuti a qualcosa. E poi passiamo invece all'individuazione di alcuni temi specifici. Quando l'ammalato crede così tenacemente al proprio delirio, ciò non avviene per un sovvertimento delle sue capacità di ragionare. Quindi Freud dice quello che in fondo io ho cercato di dirvi in forme completamente diverse. Quando si delira le nostre facoltà mentali rimangono intatte, non c'è nessun sovvertimento. Semmai, come aggiungerà Jasper, se sono le facoltà mentali che si pongono al servizio del delirio, ma le nostre rotelle funziona. Quindi ciò non avviene per un sovvertimento delle sue capacità di ragionare e non deriva da ciò che di errato c'è nel delirio stesso. Quindi la prima convinzione è quella in cui verità e certezza coesistono e alla fine quando uno scava nel tentativo di guarire il malato è lì che deve andare a scavicchiare e non nel delirio. In ogni delirio vi è invece un nucleo di verità, vi è sempre in esso qualcosa che merita fede veramente ed è questo qualcosa la fonte della persuasione del malato la quale fin qui è giustificata. Ma questa verità è stata per lungo tempo rimossa e quando finalmente le riesce di giungere alla coscienza in forma travisata il sentimento di certezza che vi è connesso risulta per compenso rafforzato esso aderisce ora al surrogato della verità rimossa e lo protegge contro ogni attacco critico è come se la certezza si spostasse dalla verità inconscia all'errore cosciente che vi è collegato e vi rimanesse fissata in forza di questo spostamento c'è la certezza si sposta verso le idee deliranti e false guardate l'errore è cosciente cioè quando ciò che provoca il delirio è inconscio proprio perché io non lo voglio sapere ma il delirio stesso non è come si potrebbe pensare troppo facilmente inconscio il malato che dice c'è un tizio che mi sta puntando addosso dei raggi della morte è cosciente di quello che dice anzi è così cosciente che se gli dite non è vero lui argomenta con una serie di operazioni perfettamente logiche a partire da quelle premesse per dire che siete voi pazzi e non lui quindi il nucleo di verità storica è inconscio il delirio è invece cosciente e la certezza si appiccica un po' come le patelle resta appiccicata sul verità su questo delirio cosciente dice Freud si fissa per effetto di questo spostamento ora il termine spostamento in Freud è un termine tecnico fersibung che è il contrario nell'interpretazione dei sogni della condensazione oppure come in altri termini tedeschi analoghi che Freud usa nell'interpretazione dei sogni Freud mette insieme come meccanismi principali del sogno appunto la condensazione e lo spostamento la condensazione è quella che abbiamo già accennato l'altro giorno e cioè la condensazione è quel fenomeno per cui io nel sogno vedo una persona che mi appare come X ma io so che Y però veste come Z cioè come dice Freud la sovrapposizione di più lastre fotografi di più immagini di lastre fotografiche di più immagini sulla stessa lastra fotografica e quindi nella condensazione c'è come dire un mettere insieme ciò che è eterogeneo con la differenza che persino nel sogno la coscienza vigile distingue cioè io so che che sembra X che mi appare come X ma io so che Y e mi accorgo contemporaneamente che vestito come Z nel delirio avvengono queste sovrapposizioni ma io non mi rendo più conto di chi c'è per esempio è tipico nelle persone deliranti di prendere un passante un infermiere come se fosse uno della loro famiglia conosciuto trent'anni prima o così via la fersibungo spostamento è il meccanismo complementare della condensazione mentre la condensazione mette insieme senza come dire guardare tanto per il sottile mette insieme l'eterogeneo lo spostamento separa ciò che invece appartiene alla stessa cosa lo spostamento è il separare rendendo inintellegibili cose che appartengono allo stesso allo stesso genere quindi è uno smembramento ora voi capite se andate a prendere la logica di Aristotele o la teoria delle classi complicata di Russell che in questo modo il malato mentale pur rimanendogli intatti i meccanismi di ragionamento produce produce uno stravolgimento logico perché esistono classi logiche lo dico in maniera senza tanti tecnicismi se io dico il gatto è un felino io metto la classe dei gatti dentro il genere prossimo dei felini quindi qual è la buona definizione la buona definizione come sapete è quella che segna il genere prossimo e la differenza specifica prendiamo un esempio molto più chiaro perché appartiene a una scienza intuitivamente rigorosa come la geometria se io dico che il quadrato è un quadrilatero con lati e angoli uguali io ho dato una buona definizione perché ho segnato la differenza specifica è il genere prossimo il genere il genere prossimo e non il genere remoto se avessi detto invece del quadrato è un quadrilatero il quadrato è una figura geometrica avrei usato sarei stato generico questo vuol dire generico ah tizio è generico generico vuol dire che non prende il genere prossimo ma il genere remoto quindi è una cattiva definizione è meno precisa allora qual è la differenza questo è il genere prossimo direi che è un quadrilatero cioè la classe dei quadrati immaginatela come un cerchio sta dentro un cerchio più grande che quella dei quadrilateri qual è la differenza specifica che ha lati e angoli uguali se avessi detto che è soltanto lati uguali avrei potuto mettere nella stessa classe anche il rombo perché il rombo ha lati uguali ma non ha degli angoli uguali quindi la differenza specifica è il genere la buona definizione il genere prossimo è differenza specifica tutto il nostro mondo di tutta la nostra logica comune elementare ma anche quella scientifica si basa su questa capacità di distinguere di classificare tutte le classificazioni che sono state fatte per esempio dall'inneo nella botanica tutto il nostro modo di ragionare anche a livelli più alti è fatto con l'idea che non ci sia quella che Platone di cui abbiamo parlato ieri o anche Aristotele chiama metabasis eis allo genos cioè un passaggio da un genere da una classe a un'altra che succede nel delirio con lo spostamento con questa che ciò che è unito che fa parte di una classe logica viene a essere sparpagliato e sembra che appartenga a classi logiche differenti o ciò che è sparpagliato sembra che appartenga alla stessa cosa vi faccio un esempio tratto da Ignazio Mateblanco che era un grande studioso non solo psicheralista ma allievo di Russell che ha scritto questo libro è morto qualche anno fa scrisse nel 75 a Londra poi pubblicato in italiano nell'80 questo libro l'inconscio come insiemi infiniti ora avendo avuto una formazione è stato a 24 anni era professore di fisiologia a Oxford lui era cileno poi appunto conobe Russell si interessò molto di matematica eccetera lui distingue due tipi di logiche quella che chiama logica asimmetrica e quella che chiama logica simmetrica ve lo spiego subito la logica simmetrica per lui è quella dell'inconscio io cercherò di vedere come possa essere in parte anche la logica del delirio nell'inconscio dice Mate Blanco c'è una logica simmetrica che contrasta con la realtà per esempio chiunque di noi sa che A è padre di B cioè che Giuseppe tal dei tali è il padre di Giorgio tal dei tali però io non posso dire come capita nel delirio nel sogno il contrario che B è padre di A questa è la simmetria cioè se voi sapete che ci sono relazioni asimmetriche che non si possono rovesciare che A è padre di B e non si può dire se non si è pazzi o non si sogna che B è padre di A e che simultaneamente è vero che A è padre di B e B è padre di A allora nell'inconscio voi avete una logica simmetrica mentre la logica razionale o da svegli è una logica asimmetrica cioè in cui non si confondono le cose tradotto nel linguaggio che sto usando io la classe dei padri implica una certa relazione con la classe dei figli cioè voi non potete dire per esempio secondo l'esempio fatto prima che voi potete dire che il gatto è un felino che tutti i gatti sono felini ma non potete dire che tutti i felini sono gatti voi potete dire che tutti i quadrati sono quadrilateri ma non potete dire senza sbagliare che tutti i quadrilateri sono quadrati ecco allora nell'ambito dell'inconscio e io aggiungerei nell'ambito del delirio succede che attraverso questo duplice meccanismo si abbiano queste queste forme di metabasi da una classe all'altra cioè si abbia uno scambio improprio di classi si potrebbe se uno avesse voglia e tempo di ci fosse una lavagna insomma non c'ho voglia uno potrebbe sì vabbè ma comunque è semplice uno potrebbe fare classe dei padri che ha una relazione come dire univoca in una determinata direzione il padre è sempre padre di qualcuno io non posso essere padre se non ho figli e non possono essere figli se non ha padri quindi la classe logica di padre ha una certa relazione come dire univoca dal padre verso il figlio e dal figlio verso il padre io sono figlio di o padre di ma non posso rovesciare per lo stesso individuo la relazione A non può essere contemporaneamente padre e figlio di B no? quindi c'è nel delirio questa sorta di sconvolgimento allora la logica del delirio sembra a questo punto completamente illogica ma è illogica non perché come dire il sistema di catalogazione in generale non vale ma perché si usa un altro sistema di catalogazione cioè il rapporto tra le classi logiche il rapporto di inclusione ed esclusione tra le classi logiche è un rapporto come dire a doppio senso diventa una strada a doppio senso cioè perché il delirio è inverosimile perché nel delirio tutto è possibile come nel sogno cioè è possibile l'impossibile che A sia padre di B e che nello stesso tempo B sia padre di A e qua torniamo al nostro primo accenno al concetto di realtà quando vi dicevo che il concetto di realtà non è soltanto descrittivo ma anche in sostanza prescrittivo e costruttivo cioè che il concetto di realtà implica una disciplina che si dirige a imporre certi modi di rapportarsi con la realtà il concetto di realtà è tutto costruito attraverso delle obbligazioni che sono anche logiche cioè noi vivremo in un mondo in cui il principio del piacere domina invece la realtà è legata proprio a questa rinuncia che è terribile io vorrei tante cose vorrei non vorrei avere dolori vorrei una volta provato un piacere lo vorrei riprovare sempre con la stessa intensità quindi nella crescita di ciascuno di noi c'è una serie di rinunce continue che ci sono imposte dalla durezza della realtà che non soltanto è così perché è così ma mi costringe ad adeguarmi come dire a certi criteri che vanno contro il mio desiderio quindi il principio di realtà implica che io debba usare un modello di logica per cui appunto c'è come direbbe il padre Dante la contraddizione che non consente cioè io ho una cosa o un'altra io non posso sempre nel rapporto per esempio i bambini a scuola essere sempre coccolato come a casa mentre gli altri mi trattano mettiamo da 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 asino da ultimo della classe da fesso da tacabrighe oppure posso andare bene a scuola se sono al ginnasio mi va bene mi va male con le ragazze o con i ragazzi e io non posso come dire avere tutto e allora la logica è una di queste impalcature della realtà che indirizza appunto il mio essere verso determinati obiettivi diciamo un'altra cosa allora facendo un'ipotesi un po' più azzardata che nell'età infantile dove domina il principio di realtà cioè nel momento in cui siamo deboli perché l'essere il bambino umano come sapete ci sono dei bellissimi studi di Arnold Galen e di tanti studiosi di fisiologia umana il bambino umano è quello più indifeso per più lungo tempo cioè vedete un cavallino dopo qualche giorno barcola ma è già in piedi è già relativamente autonomo il bambino umano praticamente se non ci fosse nessuno che lo curasse morirebbe quindi questo rapporto che si è creato che è un rapporto di nutrimento ma soprattutto di affetto di indistinzione tra nutrimento e affetto bionivoco da madre a figlio da genitore a figlio da figlio a genitore con tutti i conflitti che Freud ci vede è un periodo come dire in cui si cerca di salvare i bambini normalmente a meno che non si finisca nella cronaca nera si cerca di salvare i bambini dalla cattiveria del mondo insomma si cerca di evitargli delle brutte di evitar loro delle brutte esperienze quindi in questo periodo se guardate attentamente insomma senza nemmeno tanta attenzione perché è tanto chiaro i bambini il bambino come dire non ha limiti ai propri desideri e i limiti gli vengono imposti attraverso una disciplina la mia tesi è che della disciplina facciano parte anche le strutture logiche cioè che per orientarsi nel mondo in base al criterio di realtà bisogna seguire la logica della realtà che non consente la contraddizione nello stesso tempo che mi invita a guardare le cose da vicino a imparare dagli errori eccetera invece nell'età infantile io non non sono non sono ancora tenuto sono un irresponsabile mi è concessa una temporanea irresponsabilità io sono cioè sono protetto rispetto rispetto al mondo esterno e allora io mi posso permettere una logica che è quella del desiderio e siccome il desiderio può tutto i bambini possono trasformare questo bicchiere che so io in uno dei sette nani perché la loro fantasia ancora non ha limiti e il gioco dei bambini è un momento una specie di è come dentro una placenta si creano un mondo per conto loro notate che il mondo dei bambini è la creazione il gioco è la creazione di un mondo e naturalmente i bambini nel momento in cui giocano credono a questo mondo però è un mondo da cui vengono distratti con una gridata tipo viene ora di pranzo smettila di giocare e quindi i bambini imparano presto che questo è un mondo come dire fragile e delicato il delirante che si costruisce un mondo e non per gioco ma sempre per effetto di un desiderio desiderio frustrato rispetto al desiderio del bambino che gioca il delirante questo mondo non lo fa come una bolla scopiare nel momento in cui abbandona come il bambino abbandona il gioco e torna la vita seria questo mondo per così dire lo cementifica con cemento armato lo rende tanto più duro quanto più è fragile ecco allora il bambino sostanzialmente può costruirsi una realtà un mondo in cui i principi logici nostri non valgono in cui come si vede nelle favole tipica espressione del non del bambino ma del rapporto tra bambini e adulti del desiderio degli adulti spesso di non di insomma di negare ai bambini gli aspetti traumatici come quando una volta si diceva che erano nati sotto i cavoli oppure che il nonno che in realtà è morto sta dormendo o che lo portano via ma lo stanno portando con una carrozza in paradiso tutte queste pie e bugie che si usano per i bambini sono semplicemente dei modi per proteggere per così dire il loro mondo un mondo fatto soprattutto di fantasie ecco perché per i bambini così come per i deliranti ma in maniera evidentemente non patologica c'è una metabasis esallogenos cioè si può cambiare genere c'è quello che il gatto diventa mettiamo improvvisamente un cavallo alato oppure se io gioco con i transformer questo bicchiere che un transformer sta andando su venere o su marte o che so io su alfa centauri ora parlo con il comandante venusiano con le orecchie pizzute e quindi tutto il mondo infantile non conosce limiti e l'apprendimento del principio di realtà è qualcosa di molto duro quindi il principio di realtà si sviluppa sulla base della della normalizzazione cioè si si opera attraverso il principio di realtà per fare un mondo compatto univoco quello che è importante è l'univocità io so che questo bicchiere che questa lampada non è un serpente so che questa è acqua e non è arsenico il principio di realtà è un principio di distinzione in cui tutte le cose sono separate e hanno una relazione ben precisa genere prossimo differenza specifica nel mondo del delirio o nel mondo dominato dal principio del piacere o dal desiderio tutto può essere tutto e tutto può essere il contrario di tutto da qui l'elemento di deregulation del delirio avviandomi alla conclusione allora da qui il senso più profondo secondo me del termine delirio il delirio è andare oltre la lira il delirio è uno sconfinamento della verità è una verità un nucleo di verità che va oltre se stesso quindi il delirio non è semplice falsità il delirio ha come seme come elemento generatore questa verità storica che poi per nascondere se stessa fa tutta una serie di capriole di salti e per nascondere se stessa sposta sempre di più il sentimento di certezza dal nucleo di verità al suo surrogato da qui e ne parleremo domani in conclusione la diffidenza teorica che Freud dimostra in diversi campi per due categorie fondamentali cioè la categoria di evidenza e la categoria di coerenza cioè quelli che sono in apparenza ma anche in pratica entro certi limiti i simboli stessi della verità che la verità prendete il modello stesso Euclideo la geometria Euclidea è caratterizzata da evidenza e da coerenza o l'etica di Spinosa mole geometrico dimostrata si basa sul modello degli assiomi che sono evidenti delle proposizioni dei corollari sempre si è vista l'evidenza e la coerenza o quasi sempre c'è una tradizione minoritaria l'evidenza e la coerenza come fattori di verità invece Freud come vi accennavo prima che è un è stato uno scolaro di di Brentano all'università di Vienna cioè ha frequentato i corsi di filosofia perché forse sapete che lui voleva fare filosofia ma siccome era povero la famiglia aveva bisogno di soldi ha preso come dice lui una umlightung una deviazione ha fatto medicina per guadagnarsi il pane e poi voleva ritornare a fare la filosofia la psicanalisi è una formazione di compromesso tra medicina e filosofia tra la filosofia che non dà il pane e la medicina che insomma in qualche modo gliel'ha data Freud quindi Freud ha seguito le lezioni di questo Brentano che è stato uno dei maestri intellettuali di Husserl ed è quello che insomma ha insistito molto sul concetto di evidenza di concatenazione logica eccetera però Brentano aveva fatto un corso su Aristotele di cui Freud è stato l'editore ed aveva fatto delle dispense chiamiamole così e Freud le ha curate e in Aristotele nella metafisica che era oggetto del corso di Brentano c'è una se lo trovo c'è un passo in cui Aristotele dice che sostanzialmente le cose che ci sembrano va bene non lo trovo ve lo dico a memoria le cose che ci sembrano più certe sono in realtà quelle più più dubbie perché succede che noi davanti alle cose più certe siamo ciechi come gli occhi del Nucterix ma questo Nucterix non si sa bene se siano le civette che vedono solo di notte non di giorno che sarebbe una cosa molto hegeliana o siano invece i pipistrelli è più probabile che siano i pipistrelli quindi i pipistrelli che si orientano in un modo diverso da quello che è il nostro che non hanno non vedono non hanno occhi insomma hanno una pellicola davanti a quelle specie di occhi che hanno noi sappiamo oggi che hanno una specie di radar squittiscono e si muovono sulla base dell'onda di ritorno dell'eco quindi noi siamo ciechi davanti alle cose più evidenti da qui la conclusione di Freud l'evidenza quando soprattutto eccessiva quando c'è un delirio di evidenza un andare al di là l'evidenza serve tanto più a nascondere che a mostrare se io per esempio nel delirio sono certo di qualcosa mi sembra evidentissimo che qua ci sta seduto appunto il duca il principe caracciolo chi volete io sono certissimo siete voi che non lo vedete allora questa evidenza per me quanto più la difendo quanto più mi sembra splendente tanto più questa luce serve a nascondere qualcosa cioè detto in altri termini si può nascondere sia coprendo qualcosa sia puntandoci addosso una luce accecante si vede tanto poco nel pieno buio che nella piena luce cioè la verità è fatta di chiaroscuro ecco allora la caratteristica del delirio è che generalmente non conosce il chiaroscuro cioè nel delirio le cose proprio per eccesso di certezza o sono bianche o sono nere e quindi però cosa significa questo significa che nel mio delirare questo manicheismo questo fanatismo che esclude ogni dubbio mi serve proprio per consolidare la fragilità del mio mondo e quindi tanto più io credo qualcosa evidente tanto più mi inganno perché questa evidenza non è altro che il risultato dello spostamento della certezza dal nucleo di verità storica al suo surrogato e questo è quanto domande se ne avete prenda il microfono scusa prima ancora di cominciare perché dunque o non so se mi volete interrompere perché ho fermata di pazienza o io non riuscirò a esprimere quello che voglio dire partiamo dall'unico è difficile partendo dall'ultima cosa che non mi sono neanche scritta per quanto riguarda una cosa evidente più evidente e sono pienamente d'accordo tanto si può nascondere una cosa con la troppa luce tanto nascondendola il mondo degli adulti tanto più evidentemente logico tanto più evidentemente potrebbe essere delirante prima di tutto questa è una mia idea non la sto a spiegare perché se no ne affina meglio una notte per quanto riguarda il principio di realtà di cui parlava lei prima il principio di realtà secondo me non può essere come dice lei non può essere imposto il principio di realtà va interpretato e va spiegato perché il bambino non è affatto debole il bambino è un essere fortissimo ed è potenzialmente strutturato in una maniera tale che è una maniera tale che se lasciato libero a se stesso non è la misura in cui fa quello che vuole ma è la misura in cui non si esprime attraverso il nostro mondo che è già strutturato e quindi è una violenza continua che noi facciamo già io questo tema l'avevo affrontato prima l'ho affrontato l'altra volta e glielo disse questo mio pensiero perché oltretutto per me la logica della realtà so che può sembrare una pazzia o un delirio io voglio capire chi è che la decide come? chi decide la logica della realtà su che presupposte la logica della realtà su un fattore quantitativo su quanto noi ripeto il concetto di prima siamo fragili per cui ci siamo strutturati in questa maniera per cui accendiamo la televisione vediamo la gente morta poi ci stanno gli stupi per strada poi ci sta la violenza e noi continuiamo però a parlare di una logica oppure ci sta chi rimane stupefatti a questo punto la rifiuta questo tipo di logica a costo di pagare in prima persona e essere definito letteralmente un pazzo squilibrato o una pazza squilibrata in questo senso un'altra cosa ancora dunque il delirio se l'autoaccusa di cui lei parlava ne ha fatto un esempio non è un'autoaccusa che non ha una motivazione inconscia ma se per esempio l'autoaccusa è reale cioè se per esempio io mi accuso di una cosa che veramente ho fatto anche in questo caso potrebbe valere questa cosa che mi è un poco più chiara di tutte potrebbe valere il senso di rimozione io credo di sì e un'altra cosa ultima è che anzi due cose secondo lei bisogna essere in due per vivere la rimozione cioè praticamente ci si rende complici della rimozione di una persona o la persona può rimuovere da sé vale a dire se io in questo momento voglio rimuovere qualcosa se vengo da lei lei mi permette di delirare o mi visto che non sono proprio elettivamente ancora pazza cioè quanta corresponsabilità sta nella persona che ancora non deliria è il delirio che è una sostituzione della verità storica come lei dice rimossa ma se è una verità è storica rimossa in che senso? far finta che non sia successo questo allora risponde ti ha fatto sei domande sì sì grazie allora prego ah ma si può rispondere sì sì dunque che il mondo delirante sia quello degli adulti direi proprio di no nel senso che normalmente il principio di realtà che si impone ai bambini non è soltanto violenza e ci sono anche dei parametri se quello mette le dita dentro la presa della luce voglio dire non ci saranno più bambini se voi come dire gli permettete di fare tutto quindi la violenza come dire è una forma di coercizione se uno e noi sì ma voglio un po' di regole in una comunque queste sono ognuno educa come gli pare io per di oggi a un certo punto li faccio mangiare se no che diavolo facciamo uno mangia le 4 l'altro le 5 cioè no il problema è la società richiede coordinazione nessuna società no ma ora no ma ora non stiamo non stiamo a fare l'esempio non facciamo gli esempi minimi insomma uno può giocare un po' di più un po' di meno non è quello il problema il problema è che se uno non vuole creare uno spostato deve dargli un principio di realtà è una serie di regole il problema è come glielo dà se glielo dà in maniera autoritaria in maniera come dire con punizioni corporali incattivendo il bambino oppure se come dire attraverso la persuasione per quello che si può questa è una questione come dire di carattere educativo però io non credo che ci sia violenza soltanto nel costringere il principio di realtà il principio di realtà è una disciplina è un modo per sopravvivere se il principio di realtà non venisse osservato saremmo tutti morti dall'età della pietra per quanto riguarda poi la terza domanda chi decide qual è la logica della realtà e beh insomma ci sono degli standard in ogni società che stabiliscono qual è il livello medio di realtà che naturalmente non si impongono a tutti cioè non è detto che il principio di realtà ci renda razionali perché contro il principio di realtà ci sono gli interessi i desideri le passioni dei singoli se come si diceva ieri a proposito di Platone Platone se ci fosse la Callipolis diceva Platone la città perfetta in cui tutti obbedissero alla ragione non ci sarebbe bisogno di nessuna costrizione però siccome alla ragione cioè a quello che è giusto a quello che volete non tutti obbediscono e ognuno tira la coperta alla sua parte esistono dei conflitti sociali che sono al di là in cui certe forme di delirio di cui parlerò eventualmente domani se ho tempo cioè i deliri per esempio di carattere religioso vengono fuori per quanto riguarda l'autoaccusa l'autoaccusa può essere benissimo vera cioè può nascere da un problema vero il problema dell'autoaccusa è fino a quando resta cosciente cioè io posso aver fatto qualche carognata come si dice a Napoli veramente il problema non è che se l'ho fatta o credo di averla fatta il problema è se io sopporto l'idea di essere responsabile oppure come dire faccio scivolare piano piano questa idea nell'inconscio la rimuovo e la tengo lì questa è la discriminante che sia reale o immaginario non vuol dire niente quando ripeto Freud parla di verità storica non vuol dire che qualcosa sia successo vuol dire che io semplicemente in un certo periodo ho sentito così sia questo frutto di immaginazione e di realtà poi se si delira a due o a tre ci sono dei deliri a due che vengono studiate gli psichiatri per esempio quelli di marito e moglie o di coppie comunque molte volte anche di analizzato e analizzando in psicanalisi c'era Carl Krauss che era un grande scrittore viennese dalla lingua sulfurea che diceva che la sola differenza che c'è tra il medico e il malato è che la prima è una pazzia convessa la seconda è una pazzia concava e quindi insomma il problema non è di delirare certo ci possono essere delle situazioni in cui qualcuno favorisce il delirio ma molte volte l'avere una persona vicina che è in grado come dire di capire soprattutto ha affetto per l'altro a meno che non la odi che è un'altra questione aiuta invece a frenare il delirio perché uno scappa nel delirio quando non ha soprattutto punti di appoggio in se stesso in primo luogo e in molte volte negli altri abitando in America io in tutti questi anni mi trovo sempre con una quantità di matti per strada che loro non curano perché insomma c'è una specie di mondo come dire darwiniano di lotta per l'esistenza non vogliono spendere soldi per mettere la gente a meno che non siano manicomi criminali o in carcere quelli che non sono considerati molto aggressivi stanno per strada dormono sulla spiaggia dove abito io a Santa Monica tutti belli abbronzati si riconoscono dal colore anche della pelle che hanno perché dormono sulla sabbia all'aperto meno male la temperatura è sempre mite non è un mistero sociologico nemmeno in Italia che la maggior parte sono dei disgraziati cioè sono quelli che chiamano dropouts dei marginali quindi gente che diventa pazza perché è sola perché non ha nessuno su cui appoggiarsi quindi anche statisticamente si diventa pazzi in tutte le classi sociali però chi ha appoggi o ha una famiglia standard non è stato abbandonato da piccolo molti vengono fanno utrofi o cose di questo genere chi ha degli appoggi più difficilmente delira questo parlando un po' all'ingrosso ma voi pensate per esempio per i bambini autistici cosa erano quegli scenari che si vedono nei romanzi inglesi dell'ottocento per esempio che so io di Dickens questi posti dove i bambini di Londra venivano presi sfruttati fatti lavorare da piccolo mandati a mendicare senza andare tanto lontano non voglio dire parlare di Napoli non lo so ma se voi andate a Bucarest nelle fogne di Bucarest ci sono migliaia di questi bambini che vivono nelle fogne si sono organizzati in una specie di repubblica infantile rubano vivono in mezzo ai topi molti sono pazzi molti sono deliranti però questo delirio come dire viene in un certo modo protetto da questa specie di compagnia di disgraziati cioè vivere in tanti fra tanti disgraziati insieme così accettano anche il delirio insomma è come succedeva nel vecchio mondo lo scemo del villaggio era un personaggio tutto sommato ben voluto quando vengono internati nei manicomi peggiorano normalmente perché non c'è né la famiglia né la comunità quindi insomma il problema è quello dell'avere un appoggio non un appoggio come dire a qualsiasi un appoggio sentito da chi sta cioè il poter confidare su qualcuno poi l'ultima domanda è sulla sostituzione della verità storica insomma praticamente ho risposto cioè sostituire la verità storica significa negare quell'evento vero o inventato che è generatore del delirio e sostituirlo con il delirio questo significa cioè dare credito più al delirio che mi che mi rende irresponsabile cioè se sono gli altri che mi vedono attraverso sono gli altri che mi perseguitono io non ho colpa io non sto come dire a scavare dove mi fa non apro una ferita che mi fa male vorrei che vi capiste questo che è la cosa di buon senso però è essenziale io deliro perché non voglio aprire una ferita perché mi fa male allora preferisco una cosa più dolorosa cioè meno dolorosa che il delirio perché questo delirio mi toglie a me non sono io che porto la croce sono gli altri che mi gettano la croce questo è il meccanismo fondamentale del delirio va bene c'è tempo almeno per un'altra domanda sì venga qua perché c'è un rimbombo da fuori lei ieri ha parlato in realtà di memoria plastica sì cioè di modi di organizzazione del passato della memoria di coesistenza del tempo io le volevo chiedere quali sono i principi di questa quali sono i principi i criteri di organizzazione se possono essere definiti valori e se hanno rapporto diciamo se sono in qualche modo comuni cioè se hanno rapporto con gli archetipi dell'inconscio collettivo di Jung di Jung dunque non hanno rapporto con gli archetipi di Jung perché l'idea di Jung è che esistano davvero un po' come parlando in termini tecnici come le categorie kantiane che sono forme e che prescindono dal contenuto che esistano davvero delle forme del pensiero che sono archetipi per esempio l'archetipo del vecchio il vecchio saggio o l'archetipo del vento animus spirito che quindi quando si vede come nel finale del grande dittatore di Chaplin questi campi di grano che vengono agitati dal vento questo è un archetipo quindi l'archetipo in Jung è effettivamente qualcosa che probabilmente è archetipo collettivo che l'umanità ha creato nel corso decine di migliaia di anni della sua storia e che quindi determina il presente attraverso come dire la forma del passato in Freud invece c'è l'idea dell'ibridazione dei tempi della coesistenza come dicevo ieri della coesistenza e della successione che vale per le persone sane e per i malati di mente per le persone sane vale perché ciascuno di noi non si porta degli archetipi collettivi la cosa interessante di Freud è che Freud è un pensatore dell'individuo non del collettivo non crede a questi archetipi collettivi uno dei motivi per cui Jung ebbe cattiva fama negli anni 30 è perché era considerato filo nazista infatti era in corrispondenza con il cugino di Goering ma insomma queste erano delle cose un po' come dire polemiche però certamente ai nazisti piaceva questa idea che ci fossero degli archetipi collettivi e che quindi il singolo non avesse nessuna responsabilità invece Freud da buon sociologicamente da buon borghese viennese che credeva nella responsabilità del singolo è un pensatore dell'individuo magari ci possono essere dei parallelismi come abbiamo visto della teoria della ricapitolazione di Heckel parallelismo tra ontogenesi e filogenesi ma Freud pensa in termini individuali allora in termini individuali nella psiche sana c'è sempre un un ibrido temporale cioè noi viviamo nel presente e contemporaneamente il passato continua a prolungarsi il passato personale continua a prolungarsi cioè ci sono in noi dei nuclei dei grumi dei fueros del passato che continuano a vivere in noi e che ci accompagnano nel presente la differenza tra il malato e il sano tra il delirante e non delirante è che questa ibridazione temporale come dire viaggia su binari paralleli cioè mentre io avanzo nel tempo mi porto dietro tutte le mie ossessioni però le mie ossessioni al massimo mi danno noia nel sogno qualche volta nel caso del delirante questo passato che è rimasto a lungo chiuso in se stesso scoppia vi ho detto le acque del passato confluiscono nel presente e quindi tra trauma attuale e rimosso diciamo di prima si viene a creare una sorta di combutta una sorta di alleanza per cui si ha anche un'alterazione del tempo il delirio è inclassificabile a livello temporale perché il malato ha tolto diciamo la sua fiducia alla realtà tra cui i parametri non vive nel presente non aderisce più al presente vive si sta costruendo un altro mondo con altri tempi e allora il tempo del malato viene modellato in parte col tempo delle rimozioni precedenti quelle che possono essere infantili e quindi il passato e il presente si mescolano in una maniera così strana per cui alla fine si elida una vicenda e si vive in un tempo come dire che non è il tempo comune è un tempo completamente proprio ecco come questo incide e questo incide sui modelli di memoria cioè se diamo retta al Freud che abbiamo letto all'inizio vi è una memoria di tipo come dire unico secondo la tradizione Freud dice che non è unica la memoria ma è molteplice cioè c'è un tipo di memoria cioè di organizzazione dei ricordi che è fatta in un modo nell'infanzia e in un modo diverso nelle altre tre età della vita quindi quello che Freud dice che noi riorganizziamo diversamente i nostri ricordi in ogni epoca della vita cioè che noi abbiamo delle strutture dei codici completamente diversi ecco perché allora vengono fuori i fueros perché io a livello infantile diceva Freud i miei ricordi non avendo la primissima infanzia non avendo linguaggio eccetera non li posso come dire rendere coscienti li somatizzo non so ci sono delle persone io ricordo insomma che in campagna c'era un mio cugino che che da piccolo era sfollato in campagna e beveva l'acqua del pozzo e beveva l'acqua del pozzo così facendo così perché l'aspirava dal dentro ora quando beve col bicchiere si è somatizzato beve così cioè inconsciamente lui non lo sa ma riproduce quel gesto che riproduceva quando beveva dalla superficie dell'acqua del pozzo questo è un esempio stupido per dire come la somatizzazione implica ad esempio che certi atteggiamenti infantili di paura la posizione fetale uno l'assume quando ha paura può avere 80 anni se gli viene un accidente una paura improvvisa si mette così oppure riproduce il suo corpo riproduce dei gesti ma gli psicanalisti gli psiquiatri lo sanno perché non potendo come dire far parlare dell'infanzia con parole il bravo analista il bravo psichiatra è quello che è capace di interpretare anche i gesti e allora attraverso i gesti sono gesti parlanti e anzi i psicanalisti sottengono che anche il silenzio parla ci sono qualità diverse del silenzio ecco qua sì non fa nulla non fa nulla e lei studia a blog uno è proprio uno è proprio delle limitazioni temporali e quindi della identità e quindi di grumi di passato che non sono tanto non trascritti dall'individuo ma che non trovano le condizioni per ritrascriversi e che però in questo modo conservano anche una forza propulsiva e quindi un'apertura verso il futuro in questo senso anche il non conscio come non solo non più conscio ma anche non ancora conscio e mi chiedevo se questo poi cioè mi chiedevo poi lei in realtà lo ha anche detto in un suo saggio che questo conduce ad una razza più ampliata e mi divertiva il fatto che poi Bloch definisca il pensare come un oltrepassare e quindi esattamente la definizione che lei ha dato del delirio grazie dunque Bloch va detto aveva una certa diffidenza nei caratteri nei confronti di Freud cioè lo studiava ma riteneva che Freud come Hegel fosse uno con lo sguardo rivolto all'indietro cioè che privilegiasse il passato l'infanzia sul futuro e lui si propone come un correttore diciamo di Freud facendo vedere che nell'inconscio non c'è soltanto l'oscurità dell'attimo vissuto o lo sguardo all'indietro o l'anamnesi come la chiama lui ma c'è anche appunto questa molla questa forza propulsiva del non ancora dal punto di vista filologico ha torto perché in Freud ci sono non mi pare di aver portato i testi ma in Freud è chiaro che che l'inconscio guarda al futuro la vera la vera personalità sana chiamiamola così per Freud è quella che ha una temporalità tridimensionale cioè che è capace di vivere contemporaneamente nel presente nel passato e nel futuro di avere una temporalità stereoscopica mentre il malato è quello che è caratterizzato per Freud dal blocco del futuro cioè che non può declinarsi se non in maniera delirante le ibridazioni temporali in Bloch non stanno tanto come dire a livello di tempo psichico su cui lui non dice molto di nuovo ma a livello di tempo sociale quello sì quando quando Bloch parla di un gleichzeitigkeit cioè di ma assincronia e cioè il fatto che tutti viviamo nello stesso tempo cronologico ma in diversi tempi storici per cui i selvaggi dell'Amazonia vivono nel 1999 ma è come se vivessero nell'età della pietra e ogni individuo ha il suo tempo particolare o quando Freud spiega il nazismo dicendo che c'è una specie di strana commistione tra ipermodernità e caratteri addirittura medievali perché tirano fuori delle storie come il fatto che gli ebrei sono quelli che attraverso l'usura mantengono in soggezione il popolo tedesco Freud in Bloch dice delle cose estremamente interessanti poi soprattutto è interessante cosa che Freud non ha fatto non poteva fare insomma non poteva fare non era come dire della generazione giusta quest'analisi che Bloch fa del cinema cioè attraverso il cinema io posso vedere come dire sia il tempo accelerato sia il ralenti cioè dice Bloch e Benjamin il suo amico che per la prima volta riesco a capire come come camminano come corrono i cavalli perché guardate le stampe inglesi un esempio che a me colpisce molto c'hanno sempre tutte le quattro zampe sollevate soltanto col rallentamento che si è visto che qualche zampa genere due poggia sempre per terra oppure che si vede la crescita di un fiore attraverso fotogrammi presi a distanze diverse oppure che c'è il flashback ci sono tutte queste Freud insomma è un classico Bloch è uno che vive l'esperienza dell'espressionismo e quindi attraverso l'espressionismo c'è il montage e il demontage delle strutture temporali cioè usa il tempo come si fa nel cinema per accelerare abbreviare per saltare certi punti in Freud come dire c'è una considerazione un po' più tradizionale del tempo cioè quella del tempo psichico ma con delle torsioni che sono quelle che vi ho detto va bene vi ringrazio per la vostra pazienza ci vediamo domani alle 5 e mezzo grazie grazie grazie